Si prefigura la voglia di dire al popolo della libertà che le cose devono cambiare, che ci aspettiamo sulla linea politica, sul modo con il quale si consegue quella linea politica, sul tema della selezione della classe dirigente, sul tema della incandidabilità degli impresentabili, eccetera, 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 delle risposte chiare. Si può dire che per noi Monti non è l'orizzonte e si può dire che per noi la candidatura di Silvio Berlusconi sarebbe un errore perché ci ricordiamo di come Silvio Berlusconi spiazzò tutti, compresi i tuoi avversari, quando oltre un anno fa scelse di passare il testimone a un segretario quarantenne e proprio nel momento in cui a sinistra perdeva il rinnovamento noi avremmo dovuto confermare quella scelta e sarebbe il caso di confermare quella scelta. Quindi Alfano va bene invece, un'altra generazione va bene, chiaramente Alfano è il segretario del partito.